Le TV One X 500 ha fatto breccia nei vostri cuori ma anche nei nostri questi sono 5 motivi per andare ad acquistare questo nuovo prodotto quindi noi come al solito vi diamo il benvenuti insieme a grossoshop.net Senza perderci in ulteriori chiacchere iniziamo subito a parlare del display di questo smartphone bellissimo IPS LCD 5.5 pollici di diagonale Le TV monta un altro pannello spettacolare sul proprio dispositivo nuovo e devo dire si affianca moltissimo a X600 Sicurezza e privacy uno dei punti chiave di questo smartphone sensore di sblocco mediante impronta digitale posto nel retro funziona bene sempre preciso non abbiamo mai avuto problemi insomma un occhio anche alla privacy non guasta mai all'interno di questi smartphone non possiamo non menzionare i materiali di questo telefono un prezzo entry level dai materiali da top di gamma spettacolare davvero è un piacere toccare con mano questo dispositivo e noi davvero non possiamo far altro che menzionare questo motivo un altro motivo e soprattutto orgoglio al nostro personale grossoshop.net in collaborazione con BB72 e Paolo anche su questo dispositivo monta una ROM esclusiva e la troverete se acquisterete da noi il dispositivo chiaramente sarà la vostra ROM personale la vostra ROM con all'interno italiano ma soprattutto con all'interno il Google Play Store autonomia ma anche prestazioni sono i punti di forza di questo smartphone vari test di benchmark assolutamente passati da questo dispositivo e trovate anche la video recensione completa all'interno di blog.grossoshop.net un dispositivo davvero particolare e fantastico noi vi rimandiamo all'interno di info.grossoshop.net e mi raccomando abbiamo anche i gruppi d'acquisto sul nostro sito un saluto da grossoshop.net